Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi un vlog diverso dal solito. Infatti, se stai guardando questo video, esprimi un desiderio, perché andremo a fare un barattolo dei sogni e dei desideri. Allora, questo è tutto l'occorrente che ci servirà per il nostro barattolo dei sogni e desideri. Ma prima voglio ricordarvi, come sempre, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel like, un bel commento e non dimenticate di attivare la campanella che c'è a destra. Così verrete avvisati ogni qualvolta esce un mio video. Allora, tutto quello che ci servirà saranno delle collane di perle bianche, mi raccomando, un cuore rosso, una farfalla, io avevo questi ciondoli e vanno pure bene, una coccinella, l'albero della vita. Poi, questo è l'albero della spiritualità. Ve lo voglio mostrare ancora più da vicino perché in punta ha una croce. Vedete che è diverso dall'albero della vita? Delle monete, qualsiasi genere di monete. Io avevo queste e metterò queste. Una chiave. Dei brillandini per decorare il nostro barattolo, che è questo. Io avevo questo barattolo, quello delle olive. L'ho lavato, pulito, ho tolto tutta la carta che c'era attorno. Poi ho voluto decorare un po' il tappo, pitturando un po' il bordo. Avevo un po' di carta adesiva e l'ho messa al di sopra, in modo tale da coprire appunto la scritta del tappo. Adesso vi lascio il video. E non dimenticate, come sempre, di iscrivervi al mio canale. Ecco, sembra un po' diverso, un po' strano, ma questo è tutto ciò che ci occorre. Vi lascio alla sigla e poi al video. Ciao! Allora, innanzitutto andiamo a prendere il nostro barattolo. Lo andiamo ad aprire e andiamo a mettere qualche cuoricino, appunto, per dargli qualche decorazione in più. Tanto per abbellirlo un po'. Possiamo metterli come vogliamo, ecco. Tanto per dare un tocco di allegria. Io vado a metterli così, ma voi potete metterli come volete. Ecco qua. Già sembra un po' più carino. Allora, questo è il nostro barattolo dei sogni e desideri. Allora, andiamo a mettere le nostre perle bianche, che identificano come ricchezza. Eccole qua. Poi andiamo a mettere la coccinella, che è il segno di fortuna. Poi andiamo a prendere il nostro cuore, che è il segno di amore. Poi andiamo a prendere la nostra chiave. Io avevo questa, un giondolino. La chiave è il segno di desiderio, quindi i nostri desideri. Poi andiamo a prendere quest'altro giondolino, che è una farfalla, che è il segno di libertà. E la mettiamo qui. Poi andiamo a prendere delle monete. Le monete rappresentano il lavoro. E andiamo a inserirle qui dentro. Poi andiamo a prendere quest'altro giondolo, che, notandolo bene, ha una croce e un albero. Questo è il segno della spiritualità. Voi potete mettere qualsiasi altro giondolino che identifichi la spiritualità. E per finire, questo, che è l'albero della vita, dove rappresenta la salute, la famiglia e le nostre radici. Andiamo a chiudere. Eccolo qua. E questo è il nostro barattolo dei sogni e dei desideri. Quindi, se stai guardando questo video, esprimi un desiderio e mentre andate a mettere tutti gli oggetti, fate tre respiri profondi e abbiate la consapevolezza che il vostro desiderio si avvererà. Ogni tanto, agitate il barattolo dei sogni e lottate per i vostri desideri. Questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto. E vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al mio canale e lasciare un bel like. Noi ci vediamo al prossimo vlog da Sherra Pamela. Grazie. 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 Grazie.